Pagini nell'ambito dell'inchiesta sul presunto sistema Salerno ci aggiorna su tutto. Serena Valeriani. Un presunto sistema in grado di macinare voti e affari è definito il cerchio magico da Vittorio Zoccola, uno dei principali indagati dell'inchiesta che sta travolgendo il comune di Salerno. In seguito ai due interrogatori, il manager delle cooperative fa nomi di amministratori e politici che al momento sono del tutto estrani alle indagini e non sono indagati. In alcuni punti cita il governatore Vincenzo De Luca e i figli Roberto e Piero. Ha parlato tanto l'ex manager probabilmente per provare a risultare una vittima di un sistema che è andato avanti per anni e lo fa definendosi supporters di Giovanni Savastano che è finito ai domiciliari, spiegando le modalità con cui, secondo lui, agiva per macinare i voti. Un meccanismo che faceva abbinare il nome di Savastano a quello di una qualsiasi cittadina candidata fuori Salerno così da scrivere a zoccola i voti. Ma di questo sfogo dell'ex manager al quale al momento non ci sono riscontri restano le parole al vaglio della procura di Giuseppe Borrelli, dell'aggiunto Luigi Alberto Cannavale e del pool di PM al lavoro sull'inchiesta. Parliamo adesso dell'opportunità.